Numeri 28, 29, 30. Il numero 28 del microcosmos è un canone all'ottava, nel nuodo frigio. L'imitazione avvenne dapprima a distanza di due battute e poi, in virtù della contrazione ritmica di battuta 9, ad una sola battuta di distanza. Fra battuta 5 e battuta 6 la mano sinistra deve fraseggiare in modo evidente, mantenendo però il legato della mano destra. Nel brano successivo, il numero 29, l'imitazione riflessa riguarda le prime quattro battute, nelle quali la linea grave ripropone per moto contrario, a distanza di una battuta, la parte superiore. Successivamente, il rapporto contrapuntistico si esplica con maggiore libertà. Nelle due semifrasi, ciascuna di sette battute, le due gambe sonore adottate sono, dal punto di vista della successione di toni e semitoni, speculari l'una all'altra, in modo tale da generare una sorta di sovrapposizione fra il modo maggiore e quello minore naturale del tono mi. Il numero 30 propone un canone sostanzialmente rigoroso, alla quarta inferiore. Oltre al ritorno dei grandi disgiunti, cosa che abbiamo abbandonato prima, si riscontra una variegata concomitanza di legato, di ribattuti, articolazioni fraseologiche tali da richiedere una notevole indipendenza fra le due mani. Tutti questi contenuti rendono questo brano assai efficace nel percorso formativo che condurrà l'allievo a cimentarsi con il contrapunto pacchiano.